Presidente, se si è parlato di Via della Seta con il Presidente Biden e in che termini? Abbiamo parlato anche di Via della Seta, abbiamo parlato più in generale di Cina. L'unica cosa che le voglio dire è che se voi immaginate che l'approccio degli Stati Uniti sia quello di chiedere o di pretendere qualcosa all'Italia, non è questo l'approccio. Gli Stati Uniti si fidano del ruolo dell'Italia, della nostra posizione, della nostra postura e quindi il ragionamento che si fa è un ragionamento più ampio sui rapporti tra l'Occidente, tra i paesi del G7 e la Cina. Ed è un dibattito che noi portiamo avanti da tempo, dove appunto il tema del risking rispetto al fatto che noi abbiamo completamente devoluto alcune catene approvvigionamento fondamentali in passato debba essere oggi una priorità. È un tema che, come lei sa, io pongo da ben prima di fare il Presidente del Consiglio dei Ministri in Italia ed è un tema sul quale oggi c'è grande convergenza. Quindi il ragionamento è un ragionamento più complesso e complessivo e, ripeto, non c'è questo approccio che delle volte io leggo nelle nostre ricostruzioni per cui noi faremmo delle scelte o saremmo forzati a fare delle scelte perché qualcuno ce lo impone. A parte che non è il mio modo di gestire la politica della nazione che rappresento perché io sono abituato a fare quello che nel mio interesse nazionale fare, cioè nell'interesse nazionale dell'Italia fare, ma sicuramente c'è un rispetto tale per cui nessuno ritiene di dover dire cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare, anche perché siamo considerati molto affidabili e molto seri.